Ciao ciao a tutti, oggi piccolo haul di acquisti fatti al negozio NKD, negozio d'abbigliamento marca tedesca, articoli a prezzi davvero low cost e soprattutto con le taglie giuste, la 46, la 46, la 48, la 48, a volte io vado in negozi, ma non vado quasi più ormai nei negozi normali perché la 48 che normalmente è la mia taglia, tante volte non riesco a infilarla nemmeno dalle ginocchia in su e queste invece sono taglie reali quindi mi danno molta più soddisfazione, poi i prezzi sono veramente bassi per cui meglio ancora. Ero già stata una decina di giorni fa per prendere alcune cosette e nell'occasione mi hanno dato un buono da spendere solo in due giorni, circoscritto appunto due giorni, un buono del 30 per cento quindi non ho voluto perdere questa occasione per prendere ancora due o tre cosine per me per l'estate, ma vi mostro subito cosa ho preso. Già che c'ero, siccome aveva sentito mia figlia che diceva che aveva bisogno di comprare gli slip per Lorenzo che cresce a una velocità della luce, ho visto che c'erano ho preso allora questa combinazione di 5 slip da bambino per il mio piccolo Lorenzo, piccolo Lorenzo è altissimo, diventerà mi sa come gli zii, arriverà all'1,90 e oltre se va avanti così. Comunque niente, appunto 5 slip in puro cotone, 6,99 euro e queste sono le mutandine per Lorenzo. Poi ho preso per me invece questa casacca, questa blusa, fatta in questo modo con l'orlo asimmetrico, vedete, ha come due punte più lunghe ai lati e qui al collo è fatto a canotta e qui al collo ha questa lacciatura con questi due, il nastro che esce da questi due, come chiamarli, buchi? I sunbuchi, sì. Ecco, vedete questa stampa molto tropicale, floreale, adatta per l'estate e io lo userò, questa blusa, sui pantaloni che io chiamo palazzo, cioè quelli larghi, morbidi, fluidi, oppure anche sui leggings a tre quarti che uso specialmente quando andiamo a fare i giretti in moto, uso quelli. Poi ho preso questo abito che è in viscosa, sì, viscosa, ed è fatto così, è un abito a canotta, la parte sopra è in maglina di cotone, appunto fatta a canotta, ah, non vi ho detto il prezzo della blusa, la blusa l'ho pagata a 9,99 euro. L'abitino, invece, questo abito l'ho pagato 14,99, insomma 15 euro. Allora è fatto così, la parte sopra è in maglina di cotone elasticizzata, nero, e sotto questa fantasia, anche qui con questi fiorelloni tropicali di viscosa, come vi ho detto, è foderato, c'è la fodera sotto, nera, abbastanza sostenuta, perché altrimenti così sarebbe proprio trasparentissimo. Magari poi l'abitino, ve lo faccio vedere indossato, cosa dite? Si può fare? Ma sì, la facciamo. Eccolo qua. Lungo arriva poco più sotto del polpaccio, magari per qualcuno un po' più piccoletta, può arrivare addirittura fino ai piedi. Io sono molto alta, per cui fin lì mi arriva. Chiaramente lo porterò con sandali piatti, la sera, d'estate, al mare, sei subito vestita ed è molto fresco e leggero. Sì, dai, ve lo farò vedere indossato. Poi un altro abitino, ed è già finito, questa, qui c'è il scontrino, questo abitino che è in lino e cotone, anche questo mi sembra 14,99, vediamo un po', se ricordo bene, sì, 14,99. Lino e cotone, con questa fantasia sempre di fiori, quest'anno mi piacciono molto i fiori, devo dire. Su fondo rosa, rosa cipria, ha queste bande laterali in mallina di cotone e ha le tasche, qui, laterali, qui e qui. Ed è fatto, ha un pezzettino di manichina, questo, ed è leggermente svasato sul fondo. Sì, è meglio che ve li faccia vedere indossati, così avete più un'idea. Questo è freschissimo, io ne ho già tre o quattro abitini fatti in questo modo, in lino e cotone. Si è subito vestite, si è in ordine, fresche, qualche accessorio indovinato, e si è davvero a posto vestite, ci si sente bene. Si può andare anche, non so, in centro, fare la passeggiata. Stanno addosso davvero bene perché cascano, non aderiscono alla figura, ma non fanno neanche la figura, insomma, di essere vestita con un sacco. Stanno bene addosso, insomma. Secondo me si adattano a qualsiasi tipo di corporatura. E anche questo ve lo farò vedere indossato, è molto, molto grazioso, devo dire. Allora, praticamente con lo sconto del 30% ho speso in tutto, perché vabbè, solo gli abiti sono 30 euro, giusto? 15 e 15, 14, 99, 15 e 15, 30. Intanto mi balla tutta la ciccetta qui sotto qua, però ho troppo caldo. Ci vorrebbe un po' di manichina, ma ho troppo caldo. Dicevo, quindi 15 e 15, 30, più i 9, 10 euro la blusa, quindi 40, più i 7 euro degli slip per Lorenzo, quindi 47, e invece sono andata a pagare 33 euro e un centesimo, quindi ne basta la pena. Vi lascio allora, adesso vi provo i vestiti, li indosso, non sto neanche a tagliare le etichette, li provo così come sono, anche perché poi taglio le etichette e do una sciacquata, comunque preferisco, insomma, dare una lavata preventiva. E vi faccio vedere come stanno indossati. Io vi ringrazio, vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao! Sì, sì. Sì. Sì.